Vedere Maria di Filippi e Maravenier condurre Sanremo sarebbe sicuramente il sogno di molti. Ebbene, questo sogno forse potrebbe diventare realtà. Le due hanno spiegato tutto il giornale VeroTV al quale hanno illustrato questo incredibile progetto. Le due presentatrici si sono meritate senza alcun ripensamento alla copertina della rivista. Quest'idea potrebbe stupire molti dal momento che le due lavorano per due retti concorrenti, Ryan Mediaset appunto. Nonostante questo, nella vita di tutti i giorni sono molto amiche e quindi formerebbero sicuramente una coppia perfetta. Cosa ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Scrivetevi al canale.